Buongiorno sono Domingo Noguera e sono qua per presentarvi Green Idea Technologies. Green Idea è un'azienda che è nata per permettere ai suoi clienti di migliorare le performance economiche e ambientali attraverso l'inserimento di un processo economicamente circolare nel settore informatico. Questa è una soluzione al fenomeno della digitalizzazione che sta portando l'aumento della domanda di prodotti informatici e un conseguente aumento dei rifiuti informatici in questo settore. La nostra soluzione per questo problema è il servizio premium gestione sostenibile che è composto da tre azioni concrete. La prima soluzione è la vendita di prodotti informatici ricondizionati e rigenerati attraverso una piattaforma dedicata nella quale i nostri clienti hanno acceso a oltre 20.000 prodotti hardware e printing certificati. La seconda soluzione concreta è la vendita per conto terzi di prodotti informatici dei nostri clienti. Anche questa riungibile attraverso una piattaforma dedicata per la vendita degli acid per conto terzi. La terza azione concreta è il calcolo dell'impatto ambientale in termini emissioni CO2 risultato dalla vendita o dall'acquisto di prodotti informatici ricondizionati o rigenerati. Questo lo facciamo attraverso una piattaforma dedicata che ci permette di calcolare in modo automatizzato queste emissioni di CO2. Raggiungere questo obiettivo è stato il risultato di un team specializzato che attraverso importanti studi scientifici e importanti studi sul mercato ci ha permesso di raggiungere questo traguardo. Quindi mi rimane solo che invitarvi a conoscere ancora che ho un'idea e lottare insieme a noi per i cambiamenti climatici. Ricordate il futuro è circolare. Grazie. 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 Grazie.